oggi vi parlo di una delle macchine istantanee più iconiche di polaroid si chiama polaroid land camera 1000 e vi racconto anche di come non ci ho capito nulla ciao a tutti cari amici miei e benvenuti in questo nuovo video come state spero molto bene oggi in realtà avrei voluto pubblicare la prima parte dei blog che usciranno nelle prossime settimane ma purtroppo sono un po indietro con il montaggio abbiate pazienza comunque oggi parliamo di questa leggenda del 1977 comincia a essere vecchiotta ma nel mondo delle macchine fotografiche non interessa anzi è un plus devo dire che ne avevo già un'altra è questa qui nera però non aveva mai funzionato in realtà questa non è proprio la stessa macchina fotografica infatti è una 1000s però sono andato a vedere in qualche forum in lingua inglese e praticamente quasi nessuno sa la differenza qualcuno dice che forse una lente è differente qualcun altro dice che forse il diaframma è differente ma niente di certo tuttavia con questo tipo di pellicola dubito che qualcuno riuscirebbe a capirne la differenza se la sapete diversa commentate qua sotto questa qui che ha un colore decisamente più bello e iconico anche grazie all'arcobaleno sotto l'obiettivo me l'ha mandata riccardo nel canale youtube in iconisti me l'ha spedita circa due settimane fa quindi grazie riccardo se non siete ancora andate a vedere il suo canale youtube in iconisti andateci subito perché è un fotografo professionista con un sacco di anni di esperienza e ne sa a pacchi ma torniamo alla macchina fotografica come vi dicevo macchina uscita nel 1977 compatibile con le pellicole sx 70 la cartuccia che contiene otto scatti e questa qua ed è uguale a quella delle polaroid originals quindi le polaroid 600 si vedono i contatti della batteria perché queste cartucce hanno la batteria integrata e sono proprio l'ora ad alimentare la macchina fotografica quello che cambia in queste pellicole rispetto a quelle di polaroid 600 è la sensibilità sono gli asa oppure gli iso tanto sono equivalenti infatti queste hanno una sensibilità asa 160 mentre le polaroid 600 hanno una sensibilità 640 quindi sono meno sensibili e ci mettono più tempo a reagire alla luce addirittura sul cartoncino protettivo delle pellicole che esce fuori quando noi inseriamo la cartuccia dentro la macchina fotografica per la prima volta c'è scritto che questa pellicola ama la luce e si raccomanda di scattare in zone particolarmente luminose ma non tergiversiamo troppo andiamo a vederla un po più da vicino partiamo dalle dimensioni che sono di 11 cm x 14 con un'altezza di 9 cm con un peso di 412 grammi senza pellicole inserite andiamo a vedere il frontale esteticamente secondo me è veramente bella abbiamo questo arcobaleno sotto l'obiettivo che è fantastico la cosa che spicca sul frontale ovviamente questo obiettivo con lunghezza focale 103 mm poi vabbè qua abbiamo il logo con la scritta 1000 sotto il pulsante di scatto che in questo caso è rosso ma ho letto che poteva essere anche verde abbiamo il mirino il finder ovviamente cari leiano quindi molto semplice subito sotto abbiamo l'esposimetro che è cds quindi a sulfuro di cadmio e attorno abbiamo questa ghiera che è molto rudimentale ma molto efficace che serve per compensare l'esposizione in base alla luminosità che troviamo nell'ambiente circostante sulla parte superiore c'è una feritoia con dei contatti perché questa macchina poteva ospitare un flash e di flash compatibili per questa macchina fotografica ce ne sono un sacco pensate che uno di quelli più vecchi era composto da dieci lampadine monouso si piazzava sopra e una volta consumati tutti i dieci discatti si prendeva e si buttava via e si c'ha ragione ovviamente col tempo sono usciti tutta una serie di flash e adattatori più ecologicamente sostenibili sul frontale basso troviamo la feritoia di espulsione delle pellicole che anche lo sportellino dove inseriamo le cartucce il pulsante qua di lato e una volta fatto saltare in avanti si aprirà lo sportellino una volta aperto si rivela l'ingranaggio che fa muovere i rulli li potete vedere bene qua e poi in fondo in fondo ci sono i contatti per la batteria una volta presa la cartuccia la inseriamo all'interno e richiudiamo ve la faccio vedere rinserendo la protezione l'avete visto quella pellicola che esce fuori si chiama frog tongue sarebbe lingua di rana e serve per coprire la pellicola per proteggerla da luce sorale nei primissimi momenti subito dopo lo scatto infatti in questa fase le pellicole polaroid soffrono tantissimo la luce e quindi c'è bisogno di coprirla immediatamente il frog tongue la copre noi la tiriamo fuori la mettiamo in tasca e la lasciamo lì per almeno 15 minuti anche se i colori per fissarsi per bene ci mettono parecchio tempo per il resto praticamente non c'è più niente c'è questa gommina che serve per bloccare un po la luce quando guardiamo il mirino e qua dietro c'è l'oblò di ispezione per vedere quante pellicole ci sono rimaste il conteggio delle pellicole arriva a 10 perché una volta nelle cartucce se ne erano appunto 10 mentre adesso ce ne stanno 8 ma che cosa c'è sotto la scocca di questa macchina fotografica la polaroid 1000 ha una velocità dell'otturatore variabile tra un quarto di secondo e un duecentesimo di secondo ha un diaframma fisso a f14.6 è un'unica modalità di fuoco praticamente tutto quello che c'è dopo un metro e venti lo mette a fuoco quindi da 120 centimetri all'infinito che cosa me ne pare a me esteticamente piace tantissimo abbiamo anche questa bella tracolla che è inserita direttamente all'interno del corpo della macchina l'unica cosa è che gli manca il foro filettato per metterla su tre piedi beh ci rimane solamente di andare a vedere le fotografie che ho scattato all'interno 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 ci voleva la musichetta col flauto del titanic perché veramente non ne ho imbroccata una non ne ho fatta una decente eppure non capisco l'esplosibito è pulito sono andato in un posto in cui c'era sole pieno con le polaroid 600 non ho mai avuto problemi con questa qui che è meno sensibile alla luce quindi dovrebbe subire meno il sole pieno ho sbagliato tutto ho sbagliato tutto se voi guardate questa qua della piazza ho provato a compensare ma niente era comunque troppo chiara altre fotografie in cui ero immobile ho aspettato che il motorino espellesse la macchina fotografica sono venute comunque abbastanza sfocate vabbè abbiamo capito che con la sx 70 non ci so scattare col seno di poi avrei dovuto forse usare l'applicazione esposimetro dello smartphone impostare gli asa 160 impostare i tempi di otturazione a un quattrocentesimo che insomma è il massimo che può fare la macchina e vedere come mi dava l'esposizione e da lì magari compensare tutto però già le foto in piazza io ho compensato tutto però si vede che era troppo soleggiato e non ce la facevo che figura vabbè non possiamo sempre vincere prezzo della macchina fotografica sul mercato dell'usato si va dai 25 euro fino ad arrivare ai 95 100 euro se è tenuta veramente da dio quindi se siete degli appassionati la macchina riuscita a comprarla senza troppi problemi per quanto riguarda le pellicole invece sono un po più costose e potete scegliere se fare otto scatti con queste bellissime pellicole oppure respirare con due polmoni perché uno l'avrete venduto per comprarle infatti le ho pagate un drammatico 20 euro e 50 per otto scatti sul sito di nita sono andata a vedere costano 19 e 99 circa quindi più o meno siamo lì porca macca porca macca tirando le somme ragazzi è stato veramente bello usare questa macchina fotografica poterla provare mi sono comunque divertito è evidente chi non la sa più usare farò altri tentativi sicuramente rimango della mia idea che il formato di polaroid sia veramente iconico e secondo me a livello di dimensioni è il migliore tuttavia sarà impopolare ma continuo a preferire tutta la vita le pellicole instax sono decisamente più affidabili restituiscono una colorazione più simile a quella che guardiamo con i nostri occhi costano di meno e sono decisamente più facili da gestire change my mind scherzi a parte ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate se scattate ancora con polaroid secondo voi sono anacronistiche oppure sono ancora valide nel mondo di oggi io ringrazio ancora riccardo del canale youtube nicolisti per avermi mandato questa macchina fotografica e avermela fatta provare dalla sua collezione e noi ci vediamo alla settimana prossima tempo permettendo per un nuovo video sempre qui sul prova cose e spero che la prossima volta ci vedremo per il blog ciao